Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Signorina Scognamino, mi dica. Io un po', ho avuto molti problemi, soprattutto con la solitudine, perché per aiutare gli altri mi sono un po' scavata la fossa. Lì per lì cercavo di aiutare queste persone, che sono i miei genitori, e io aiutando i miei genitori mi sono ritrovata a non prendermi cura di me stessa e chiudermi in me stessa e non lasciare gli altri entrare, diciamo, perché soffrivo già troppo. Quindi forse un po' in questa storia mi già posso dire di ritrovarmici. Si è sentita da sola in questa barca in mezzo al mare. Io, signorina, la sto conoscendo stasera, perché lei in classe non parla molto, invece finalmente si è fatta conoscere. Grazie. Le parole che mi sta dicendo Maggi mi fanno stare bene e mi danno sicurezza, mi fanno sentire al sicuro quasi. Grazie. 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 Grazie.